carissimi amici buon pomeriggio e bentornati al mio spazio un tè con elena in cui si parla soprattutto di libri ma non solo spero tutto bene questo pomeriggio ancora luminoso di inizio settembre sono le quattro e mezza qualcuno di voi tra un po comincia a pensare cosa mangerò stasera cosa preparerò stasera perché vi faccio questa introduzione gastronomica perché oggi vorrei parlarvi di uno straordinario personaggio un comune da un certo punto di vista uomo italiano che ci ha lasciato un'opera che sicuramente molti di voi avranno in casa ma non solo l'avranno magari ereditata dalle mamme dalle nonne probabilmente anche dalle bisnonne vi parlo di questo straordinario personaggio emiliano romagnolo di nascita anche se poi visse a firenze che risponde al nome di niente po po di meno pellegrino artusi da forlimpopoli allora pellegrino artusi nasce a forlimpopoli credo famiglia di commercianti lui per tutta la vita fece il commerciante di tessuti di filati nasce nel 1820 quindi ha tutta l'esistenza che trascorre attraverso tutto il risorcimento l'unità d'italia e muore nel 1911 a firenze dove si era trasferito tra l'altro c'è questo episodio perché la sua abitazione a forlimpopoli venne razziata da un famoso brigante di allora che si chiamava il passa detto il passatore che se non ricordo male perché scusate non sono wikipedia intanto la mente mi fa degli scherzi in termini di memoria mi sembra che si chiamasse di cognome pelloni e forse forse era un lontano antenato di una illustrissima purtroppo recentemente defunta personalità emiliano romagnola che era raffaella carrà perché raffaella carrà sappiamo era il nome d'arte il cognome era pelloni allora pellegrino artusi persona molto curiosa ha avuto modo di viaggiare in italia per per lavoro vive nel periodo in cui si fa l'italia e si devono fare gli italiani perché sapete che ancora oggi no queste suddivisioni e il nord e il sud si litiga tra province per cui no chi è vicino in tutte le regioni c'è meglio morto in casa che un e cambia che un non so pesarese che un foggiano che un bresciano no perché poi ci sono queste lotte di campanile terribili perché in realtà l'italia io sono una brianzola doc ho ben salde le mie radici amo moltissimo moltissimo tutta l'italia penso che gli italiani anche se andrebbero un po ahimè non tutti ma un po educati su tutta una serie di questioni compresa il concetto di stato credo che gli italiani sia siano siamo un popolo meraviglioso pieno di risorse creatività cuore purtroppo ma non facciamo critica sociale perché non è questo il non è questa la sede poi magari più avanti ma allora l'italia si è unita in realtà è come se questa idea delle unità d'italia poi non sempre rispondesse a a mettere assieme davvero le differenze che sono ricchezza e però sono differenze tra le regioni tra una regione l'altra tra un comune tra una via l'altra quando parliamo di gastronomia pellegrino artusi si dedicò a compilare questo bello grosso sono 790 ricette questo ricettario che si intitola appunto la scienza in cucina e l'arte di mangiare bene ma è conosciuto come l'artusi ed è quando lo apriamo a parte che c'è la sua immagine vedete un simpatico signore con i credo favoriti si chiamino quei baffoni che poi diventano anche basette molto elegantone molto anche con un senso umorismo una persona senz'altro particolare con cui sarebbe bello avere la macchina del tempo poterci fare una chiacchierata il sottotitolo diciamo del libro è manuale pratico per le famiglie perché qui sicuramente aveva una grande cultura gastronomica quindi ricette anche che si rifanno ci sono alcune non so pollo all'amarengo e tra l'altro è godibilissimo da leggere la sera della battaglia di marengo quindi spiega la l'origine di questo famoso piatto che forse fa qualche ristorante ormai di lusso no alla moda inglese adesso non mi vengono in mano tutte le però lui ha preso le notizie le informazioni dalle donne quelle che cucinavano per le famiglie dalle cuoche non tanto nei ristoranti stellati dove andavano i ricchi nobili gli industriali ma nelle case dove comunque si deve cucinare cercando di rispondere alle necessità di tutti perché c'è il bambino c'è l'anziano c'è la cuerpera ma soprattutto bisogna anche un po' fare i conti ci sono altri libri successivi magari ve li recupero fare i conti anche con una cucina casalinga che per dotazione di strumenti ma non solo soprattutto di materie prime non è quella di un ristorante stellato non troveremo tanto la ragosta non lo so ma troveremo non so lo sformato della signora adele ricetta numero 346 la bella e gentilissima signora adele desidera vi faccia conoscere questo suo sformato di gusto assai delicato è sicuramente un libro di ricette ma è così piacevole divertente da leggere e conquistò il pubblico allora pensate che alla morte di artusi nel 1911 ne erano state già vendute un milione duecentomila copie e aveva già avuto 11 ristampe parliamo di 111 edizioni nel mondo ok c'è anche un appendice che viene indicata qui che è molto carina adesso ve la leggo allora in appendice la cucina per gli stomati deboli con un'attenzione qua anche quindi no vedete a chi soffre di mal di stomaco e quindi non può mangiare non so la lepre in salmì che è particolarmente impegnativa in termini di gestione ci sono anche a parte che c'è tutto poi l'indice delle materie per cui noi cerchiamo non so capitolo minestre capitolo fritti e addirittura aveva previsto dei menù stagionali comprensivi di prima ovviamente poi nel 1800 aveva c'era un concetto di cucina un po diverso no minestre in brodo principi umido erbaggi però suddivisi per mese a marzo siccome più o meno è la stagione in cui è il mese in cui può capitare la pasqua grosso modo aveva previsto addirittura il menù del pranzo di magro un'attenzione anche agli inappetenti e deboli di stomaco perché è importante anche perché la mia famiglia di monza io come vi dico sempre sono figlia dell'abrianza ebbe una lunga intensa amicizia che divenne anche scambio di informazioni scambio culturale con un famosissimo medico fisiologo e patologo sarebbe bello magari parlarne che si chiamava molto all'avanguardia per l'epoca è tutto va contestualizzato che si chiamava paolo mantegazza illustre figlio di monza quindi pellegrino artusi il famosissimo ricettario la scienza in cucina e l'arte di mangiare bene però vi ho portato anche perché permette di capire un po anche tutta la vita dell'artusi edizioni slow food editore tascabili slow food autobiografia di pellegrino artusi vedete la vita dell'autore di uno dei più noti ricettari della nostra storia ovviamente a cura di alberto capatti e andrea pollarini che non solo spiegano un po ci ci conducono nella vita nella biografia di artusi e poi vi ho portato perché c'entra l'artusi ma non stiamo parlando stiamo parlando un'opera di fantasia di un autore che io amo moltissimo toscanaccio come si dice da noi quindi pieno di humor sarcasmo persona simpaticissima grande affabulatore ho avuto occasione di sentirlo nella serata di presentazione di un libro a cesano maderno quello su leonardo che ho portato ma non ne parliamo oggi per voci della storia interessantissima rassegna di cui magari vi parlerò allora tutti conosciamo l'autore che marco malvaldi lo conosciamo per i libri senza dubbio ma i suoi protagonisti più famosi personaggi più famosi sono quei vecchietti del bar lume che sono questi simpatici vecchietti di questo bar uno è nipote scusate nonno del proprietario e la serie dei vecchietti del bar lume da cui è stata tratta appunto una serie anche televisiva mi sembra con timi se non ricordo male molti di voi la conosceranno poi ha scritto tante altre cose ma ne parleremo ha scritto due romanzi per sellerio che hanno come protagonista sono romanzi gialli e l'investigatore che risolve il mistero anche aiutato dal suo medico amico fisiologo patologo paolo mantegrazza è proprio il nostro pellegrino artusi questo che vi ho portato credo sia il primo e si intitola odore di chiuso e l'altro è il borghese pellegrino per cui vi invito a leggeri per sellerio sellerio è sempre bellissimo anche come volume io amo molto questa casa editrice oltre alla qualità degli autori che pubblica detto ciò vi saluto forse vi è venuta fame ma troverete anche tante ricette pratiche interessanti quando avrete modo se non l'avete in casa di comprare questo ricettario per adesso vi saluto spero sia stato un contenuto interessante vi invito a mettere like se vi è piaciuto e se il canale vi incuriosisce e vi interessa sarebbe bello se vi iscriveste un tè con il grazie a tutti grazie a tutti